eccoci al quinto incontro dell'fbu club questa volta la dimensione che andiamo a toccare la dimensione personale e l'argomento è un argomento centrale in questo periodo di grandi crisi esterne cioè la gestione dello stress cosa vuol dire capire e riconoscere una situazione di stress personale e saperla gestire quali sono gli strumenti e le modalità che ci possono aiutare a gestire al meglio lo stress questo è l'obiettivo che vogliamo affrontare insieme a chi ce ne parlerà questa sera cioè roberto marini psicologo psicoterapeuta consulente di direzione partner del gruppo the family business unit roberto ha una grande esperienza di gestione dello stress sia a livello sportivo che a livello lavorativo e rispetto allo stress al lavoro e da servizio anche in strutture sanitarie ecco allora chiediamo la parola a roberto io sono luca marcolin e questo è family business unit il podcast dedicato alle imprese di famiglia dove trovare spunti stimoli informazioni utili per gestire al meglio impresa e famiglia ed ottenere risultati in armonia ok vabbè un po il titolo riprende la situazione che stiamo vivendo con tutte le contingenze del momento che quindi conosciamo ben tutti cioè quindi questo covid 19 questa malattia che ci ha un po sconvolto diremo l'esistenza le vite sia di sia di noi come persone poi chiaramente i nostri gruppi diremo più vicini che sono le famiglie per poi allargare alle imprese io sono innanzitutto un tecnico vengo dall'azienda e ho sempre lavorato in imprese familiari imprese familiari diciamo io parto dal dall'attività di operaio quindi ero un operaio facevo uno dei miei uno dei miei clienti oggi mi dice io ti ho conosciuto che lavoravi sul tornio perfetto questo questo è stato un po il mio viaggio e continuo questo viaggio anche oggi anche assieme a voi assieme a tutte a tutte le persone che sono collegate con noi stasera e diremo che alcune forse sicuramente mi conoscono io sono comunque un uno studioso perché mi sono appassionato alle persone alle organizzazioni e le organizzazioni di persone appunto mentre lavoravo mentre facevo questa attività una delle domande con le quali io mi sono diciamo così approcciato al mondo del delle persone è stata proprio questa come posso far ottenere o ottenere dei risultati che in questo momento sono sostanzialmente quasi diciamo così impensabili con le persone perché io ho queste persone ho queste risorse a mia disposizione a fronte di questo so che da qualche parte in queste risorse qualcosa di positivo c'è allora il mio incipit è stato questo anche se vediamo chiaramente lavoro lavoravo sempre con una prospettiva per dare un significato un 5 per cento di buono in ogni persona lo trovo la mia il mio obiettivo è quello di trovarlo di scovarlo e poi di metterlo in azione metterlo in azione quel 5 per cento quindi ecco che inizia un po il percorso di studio con attività diremo le più varie partendo dalla pnl per poi per poi approfondire le cose quindi poi mi sono laureato in psicologia mi sono poi ho fatto il alcuni master poi ho fatto la scuola di specializzazione quindi sono uno psicologo psicologo del lavoro psicoterapeuta esperto di diciamo così di psicologia del trauma quindi come vedete poi di mdr sono e poi sono anche un consulente perché appunto viste anche tutte queste esperienze nel momento in cui sono entrato nell'area diciamo così della sanità sono stato diciamo così ho ricevuto questi mandati per diversi anni tranne quest'anno perché adesso c'è un po di situazione ovviamente come sappiamo bene critica all'interno della sanità soprattutto qui del veneto però ne stiamo venendo fuori quindi ho ricevuto questo mandato per il centro di riferimento del benessere organizzativo quindi mi occupavo appunto di valutare le valutazioni del rischio da stress lavoro correlato che le aziende che le aziende facevano diremo all'interno del dipartimento di prevenzione ok oggi partiamo un po con qualche minuto comunque penso che ci siamo sostanzialmente quindi ho messo qui un po un'agenda che è sicuramente sicuramente diciamo così flessibile lo sarà quindi abbiamo un po di aspetti teorici di che cosa parleremo quindi poi qualche accenno applicativo e poi direi che sicuramente domande di approfondimento che però direi è il caso che mentre andiamo abbiamo la chat aperta e sicuramente chiedo a luca di darmi una mano un po per leggere quello che arriva dei vostri messaggi perché molte volte mi trovo che gli stimoli le cose che diciamo possono essere sicuramente promotrici di riflessioni anche mentre si fanno queste questo lavoro queste attività ecco le riflessioni che io proporrò sono delle riflessioni che riguardano noi quindi che riguardano le persone che riguardano il momento che stanno vivendo questo questa problematica di un virus che è invisibile che ci sta sconvolgendo le vite quindi la percezione di questo rischio che stiamo affrontando e poi diremo come si può presentare anche e sotto forma di che cosa questo rischio quando si presenta un rischio e sotto forma di che cosa che cosa di che cosa ho bisogno per far fronte a questa situazione come posso trovare all'interno di me stesso delle risorse per far fronte a situazioni che erano sostanzialmente imprevedibili ok quindi nei nostri tre appuntamenti parleremo con questo diciamo così con questo taglio che è un taglio più di natura psicologica ma anche diciamo di riflessione partendo da se stessi perché prima siamo persone quindi una persona e quindi un noi che poi diventa un noi più allargato nel momento in cui andiamo alla famiglia che poi si allarga nuovamente nel momento in cui andiamo nelle nostre organizzazioni imprese o aziende ok adesso io vi vorrei proporre proprio sul fatto di andare su di noi una riflessione e direi prendete un foglio a quattro e scrivete questa consegna vorrei che descrivessi quindi il nome roberto in questo caso il mio nel suo ruolo lavorativo come se a farlo come se fosse a farlo un collega collaboratore che lo conosce molto bene io chiedo adesso se qualcuno vorrà condividere diremo quello che quello che è emerso come descrizione potrebbe essere utile anche a riflettere tuttavia non è importante direi che mettete mettete ciò che avete sentito nel momento in cui scrivetevi diciamo sotto o dietro al foglio come vi siete sentiti a fare questo tipo di lavoro e questo ci sarà utile un po per riflettere poi nei vari passaggi ecco questa è anche una prima prova diciamo di sentirsi diciamo così sotto pressione ecco questo sotto pressione significa abbiamo un compito e lo dobbiamo eseguire questa pressione che è un po' anche quella che ovviamente si vive esempio anche in questa situazione stiamo usando dei mezzi che tendenzialmente fino a qualche mese fa direi assolutamente fino a due mesi fa questa questo tipo di attività che stiamo facendo non avremmo mai pensato di farlo in questo modo quindi non ci saremmo mai trovati in una situazione con mezzi tecnologici che fanno da mediatori tra chi fa un'azione diciamo così di formativa piuttosto che di stimolazione rispetto ad alcuni alti momenti e si trova invece con questo mezzo in effetti posso assolutamente dire perché mentre riflettevo ed eravamo qui in attesa prima anche con Luca ma anche nei vari passaggi è chiaro che un po' di diremo di tensione sale e questo lo riconosco ma come faccio a riconoscerlo? Cioè nel senso mi devo devo imparare ad ascoltarmi no? In effetti un po' di tensione c'era prima di iniziare anche l'attività qui con voi stasera stasera magari so che ci sono una cinquantina di persone collegate ma altre sere magari ce ne sono 20 30 altre 500 ma questo aspetto è un aspetto che delle volte ci mette pressione ma come facciamo a riconoscerlo è ascoltando che cosa sta succedendo dentro di noi e questo è un passaggio molto importante perché c'è qualcosa che sta accadendo fuori di noi ok che fa muovere qualcosa dentro di noi ok questo è un diciamo così una una riflessione non lo so alzi la mano chi ha sentito un po' alzi la mano un po' difficile ma non riesco a vederle chi ha sentito un po' questa tensione nel fare questo tipo di lavoro andiamo avanti poi riprendiamo man mano i vari passaggi allora vi presento qui chiaramente una slide con una persona che sicuramente riconosciamo e che ha fatto questa affermazione no conoscere per deliberare la nostra collega monica era partita da un passaggio che diremo è cambiare per conoscere qui è un conoscere per decidere cioè sostanzialmente facciamo un passaggio conoscere prima noi stessi sostanzialmente come funzioniamo per decidere come agire per decidere come far fronte alle situazioni quindi anche conoscere è fondamentale ma conoscere esempio anche quello che ci sta succedendo conoscere l'argomento e conoscere esempio la situazione che si è presentata con il nuovo coronavirus quindi di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un nuovo virus che nessuno conosceva e che ha avuto diremo così un un escalation molto importante soprattutto che abbiamo accertato che si trasmette da uomo a uomo questo primo è stato uno dei primi passaggi una consapevolezza che poi con i vari ritardi che tutti abbiamo abbiamo visto e chiaramente adesso col senno di poi si possono fare tutte le valutazioni con tutti i ritardi del caso ha creato una situazione molto critica da gestire quindi questo virus che si chiama sascov 2 produce come conseguenza una possibile malattia che appunto questo covi 19 che danneggia il polmone e altre strutture altri organi del nostro corpo di conseguenza che cosa è successo abbiamo dovuto chiudere e sono stati coniati ancora nuovi termini tipo nuovo termine nessuno conosceva lockdown ma lockdown adesso è diventato un termine con un'accezione che talvolta è assolutamente negativa cioè siamo costretti a rimanere a rimanere confinati sostanzialmente ecco anche questo questo passaggio per mettere un po sul piatto quelle che sono tutta una serie di determinanti e che possono generare chiaramente una pressione sul sulle persone e introduco questo questo concetto stress come pressione lo stress lo traduciamo proprio in questi termini dove lo stress ha sempre sempre è sempre stato preso è sempre stato coniato come una diciamo così un termine negativo per per sua eccezione ma è anche come vedremo più avanti un'accezione positiva quindi da qui abbiamo tutta un'altra serie di conseguenze quindi per diciamo così contenere questa situazione dobbiamo distanziarsi socialmente usare le mascherine e lavarsi le mani questo dato è fondamentale perché esempio conoscere questo anche gli ultimi dati della settimana scorsa seguire questi comportamenti può abbattere rischio contagio esempio di del 94 per cento quindi se riusciamo a mantenere questo diciamo così questa modalità lavorare in questo modo riusciamo sicuramente a contenere il contagio altro passaggio la conseguenza di tutto quello che ci è accaduto è vietato l'ingresso in azienda se sono manifesti determinati sintomi quindi la temperatura la tosse e la difficoltà respiratoria con tutta una serie di problematiche da gestire quindi procedure quindi siamo ripartiti settimana scorsa ma ancora la questione molto complicata da gestire e i tempi chiaramente vanno a diremo così a dilatare tutta una serie di diremo la produzione si rallenta i nostri i nostri diremo così risultati diventano molto più complicati i nostri budget saltano tutta una serie di situazioni che diventano molto complicate da gestire la nostra vita sostanzialmente si modifica diventa una vita sostanzialmente legata a a delle costrizioni ci dobbiamo comportare in un certo modo se vogliamo chiaramente in un certo senso visto in una chat penso che siamo sopravvissuti ok se riusciamo a sopravvivere chiaramente è anche grazie ai nostri comportamenti in questo caso abbiamo chiaramente una situazione molto complicata perché non abbiamo né farmaci né vaccini solo misure di protezione individuale e il criterio che chiaramente vige è la precauzione cioè dobbiamo farlo se vogliamo prevenire questa situazione poi abbiamo un tema che riguarda l'infodemia l'infodemia che sostanzialmente abbiamo un sacco di informazioni e queste informazioni che talvolta sono assolutamente fuorvianti sono assolutamente sono loro stesse fonte di stress perché diciamo c'è chi dice facciamo una determinata cosa piuttosto che facciamo un'altra anche anche persone molto diciamo così di riferimento hanno fatto delle affermazioni che poi subito dopo o relativamente dopo insomma poco dopo ha dovuto smentire o sostanzialmente ha fatto retromarcia rispetto chiaramente alle diremo all'affermazione precedentemente fatta ci ho detto tutto questo per mettere un po' diremo quelle queste riflessioni su un piano ok conosciamo tutto questo tutti questi queste informazioni questi dati no a fronte di questo come ci come ci sentiamo rispetto chiaramente alla alla all'odierno quindi tutto questo che cosa ha cambiato in noi ecco questo vuole essere già uno stimolo esempio di riflessione perché questo questo che ci sta capitando che ci è capitato è qualcosa che era assolutamente imprevedibile assolutamente diciamo così fuori da qualsiasi possibile previsione tuttavia questo ha scatenato delle delle reazioni in noi delle reazioni che sono collegate alla nostra diciamo così parte parte più più irrazionale in un certo senso per poi andare alla parte più razionale ma passando attraverso la parte emozionale ecco tutti questi passaggi adesso vedremo un po sulla sulla slide successiva fanno parte esempio di una teoria che la teoria che la teoria dei tre cervelli quindi noi viviamo questo questo rischio viviamo questo contesto viviamo anche questi ambienti che ci danno una 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 sollecitazione diciamo di un certo tipo che può essere per un certo momento anche abbastanza critica rispondiamo con un'area che è più rettiliana che adesso andiamo a spiegare perché perché questo stimolo ci ci mette in pericolo il rettile appunto noi deriviamo dal rettile in milioni di anni fa però abbiamo ancora questa base innata che riguarda i meccanismi di difesa che il rettile mette in azione i meccanismi di difesa sono evitamento fuga o attacco quindi questi questi diciamo comportamenti per cui sono appunto basici sono comportamenti che poi traducono qualcosa in paura potrebbe essere un'emozione di paura la paura è legata all'area limbica l'area limbica diremo poi traduce una una situazione di paura una un'emozione di paura in una qualcosa che può essere razionalizzato cioè quindi passare all'area corticale razionalizzarlo e dire ok la situazione è difficile molto difficile come possiamo reagire qual è la modalità più corretta per far fronte a questa situazione qual è la modalità che mi lascia sopravvivere riprendo quel termine usato dal nostro collega mi lascia sopravvivere quindi questa sono dei passaggi che chiaramente avvengono sostanzialmente in automatico l'area rettiliana quindi è la prima che si è formata e di cui noi facciamo abbiamo chiaramente tutte le sue caratteristiche poi l'area limbica si è sviluppata nel momento in cui siamo diventati dei mammiferi quindi ci siamo dovuti occupare delle emozioni dei nostri piccoli per poi sviluppare l'area corticale che è la più recente che serve per razionalizzare appunto le emozioni ecco questo questo passaggio è un passaggio molto importante perché porta con sé tutta una serie di fenomeni che ci troviamo a vivere non c'è una un'area diremo principale non c'è una priorità non è che l'area corticale sia ciò che governa le altre aree tendenzialmente dipende dall'ambiente o dipende dal contesto in cui ci troviamo sostanzialmente a vivere o esprimere la nostra azione quindi quale quale potrebbe essere il nostro contesto una di queste cose diciamo così queste riflessioni che vi ho portato adesso vi è mai capitata di doverla affrontare ecco se c'è qualche diremo così qualche riflessione potrebbe essere sicuramente utile anche già dare già dare del feedback rispetto a questo perché molte volte mi trovo in questa situazione e le persone che ci troviamo davanti anche nel momento in cui affrontano delle fatiche affrontano delle difficoltà rispetto chiaramente a quello che stanno vivendo è collegato alla rabbia esempio l'area rettiliana fa esprimere rabbia rispetto a quello che sta accadendo lasciamo lì eventualmente se c'è qualche la vediamo nella chat adesso non io qui non la vedo direttamente però se c'è una domanda io a me è successo che mi è fatto venire in mente che forse poteva essere appunto uno degli eventi dell'area rettiliana un giorno stiamo parlando di un mese fa circa per cui c'era un lockdown ben più saldo e ricordo che sono andata a fare la spesa quindi mi fermo davanti al macellaio che si era appena di organi cioè si era organizzato per cui c'erano i bigliettini tutti con la mascherina sempre i guanti eccetera almeno un metro di distanza è successo un stato strano perché c'è a un certo punto eravamo in coda arriva un signore l'ultimo della coda che si è tenuto ben più lontano dalle altre persone però per cui veramente sarà stato quasi tre metri insomma per fumarsi la sigaretta tranquillo per cui ha tirato giù la mascherina e si è tolto e si è messo a fumarsi la sua sigaretta tutto tranquillo la signora che era davanti a me si è girata lo ha visto e ha cominciato a prima brontolare e poi ad attaccarlo nel senso che gli ha detto che lui la che lui la stava mettendo a rischio che se ne doveva andare che non era il momento di fumare la sigaretta che doveva coprirsi perché stava facendo del male a tutti e quando questo signore gli ha spiegato ma io sono molto lontano non sono neanche rivolto a voi sto solo fumando una sigaretta sono all'aria aperta lei si è arrabbiata talmente tanto che ha preso il telefono detto io adesso chiamo i carabinieri questa è una reazione secondo te di tipo rettiliano questo eccesso direi che sicuramente collegata come dicevo cioè sostanzialmente non è un unico non è un'unica parte del cervello quindi non è un unico cervello che risponde ma sono sono più diremo sostanzialmente non è un'area non c'è una parte gerarchica del cervello ma è qualcosa che sostanzialmente funziona all'unisono quindi sicuramente la parte rettiliana in primis ha espresso questo senso di paura di paura rispetto ad esempio la paura sottende sottende un bisogno sottende un bisogno che è il bisogno ad esempio di sicurezza cioè quando io vedo che o percepisco che questo bisogno viene leso cioè quindi o viene messo in pericolo quindi la persona mi può mettere in pericolo e quindi a fronte di questo chiaramente reagisco e questa reazione mi fa diremo diremo mi fa tirar fuori ad esempio la rabbia quindi mi arrabbio nei confronti di questa persona poi passo all'area corticale cioè quindi razionalizzo razionalizzo e quindi sapendo che c'è questa situazione di lockdown e quindi anche la legge diciamo così della mia parte chiamo i carabinieri per fare in modo che far valere diremo la mia ragione ma anche ma anche diremo così fare in modo di essere diremo di essere più sicuro ecco quindi anche i carabinieri piuttosto che la polizia piuttosto che sono quel quegli organi che tendenzialmente ci rendono più sicuri quindi mi stai dicendo che lavorano in realtà tutti e tre al punto che infatti a un certo punto detto adesso va là e gli dà e invece ha chiamato quindi è rimasta la parte logico razionale nel senso che ha comunque chiamato la polizia in modo incauto insomma però non ha fatto delle azioni nonsense ecco giusto per capirci sì assolutamente questo è molto importante perché sicuramente la sua parte razionale è quella che ha messo in azione i sistemi di controllo quindi noi funzioniamo proprio così il nostro cervello funziona attraverso i meccanismi di inibizione perché altrimenti se non avessimo i meccanismi inibitori qualsiasi azione potrebbe essere lecita se funzionassimo solo con l'area più rettiliana ma anche l'area limbica reagiremo solo a queste a queste percezioni che chiaramente adesso vediamo un po' anche come sono come si declinano questo è proprio uno degli esempi più classici questo succede spesso abbiamo visto anche è elemento anche di cronaco quindi persone che corrono sull'argine poi si picchiano o comunque in un senso perché uno non ha la mascherina oppure oppure viene contestato per il fatto di non averlo ma cosa ti interessa quindi c'è questa reazione ed è collegata sempre a questo questo meccanismo cioè di funzionamento del nostro cervello della risposta del nostro cervello questo è proprio l'esempio che si inserisce su come far come su come comprendere quello che stiamo provando dentro di noi ad esempio anche questa rabbia questa emozione molto forte che delle volte facciamo fatica a contenere è legata appunto a questa minaccia che la minaccia però è più diremmo così è nell'area più inferiore nell'area rettiliana io provo un senso di minaccia e quindi parte ovviamente la rabbia o parte anche la reazione ok non so se mi ha risposto grazie sì sì grazie qualcuno ok quindi appunto questo è collegato a quello che percepiamo quindi ad esempio la percezione di questo rischio è un rischio di contagio un rischio di ammalarsi rispetto a quello che sta succedendo intorno a noi quindi questo rischio è un rischio collegato a un atto soggettivo appunto che riguarda un processo di elaborazione cognitivo appunto dove una persona trae informazione dal mondo in cui vive questa appunto è una definizione che è accolta anche dall'OMS quindi è una una diremmo è proprio collegata a quello che noi percepiamo del mondo in cui viviamo e chiaramente come lo elaboriamo rispetto a quello a quello che viviamo quindi succede un fatto abbastanza particolare quindi questo questo cigno nero che è apparso nella nostra nella nostra vita è collegato al virus che appunto il virus è un evento come lo definisce Taleb nel 2007 un evento raro imprevedibile e di enorme impatto in effetti è qualcosa che ha sconvolto completamente sostanzialmente le nostre esistenze qui scopriamo di essere estremamente vulnerabili cioè quindi il nostro il nostro quello che ci quello che ci cade addosso sono sostanzialmente tutte le nostre sicurezze quindi le sicurezze le certezze ancora una volta sono collegate appunto a questo rischio e che cosa è che ci ha messo così in difficoltà ciò che ci ha messo in difficoltà è proprio la certezza quindi noi eravamo certi di poter gestire o avevamo o di avere tutti gli strumenti per poter gestire tutto ciò che ci accade tuttavia si è creata questa situazione che è evidente non non possiamo gestire non riusciamo a gestire quindi ecco questa situazione in cui noi ci siamo trovati ed è un'affermazione che ovviamente faccio direttamente anche su varie riflessioni che ho fatto è collegata direttamente a questa nostra percezione di essere diremmo così invulnerabili ok quindi nel momento in cui invece questo capiamo che non è così anzi siamo estremamente vulnerabili e e stiamo rischiando appunto la sopravvivenza questo mette in in moto tutta una serie di passaggi che è appunto l'ansia l'ansia si diremmo così parte si innesca l'ansia può diventare un momento molto particolare perché l'ansia è qualcosa che ci salva la vita noi l'abbiamo imparata quando eravamo appunto a livelli diciamo così nella nostra nel momento in cui siamo siamo venuti siamo apparsi sulla terra quindi l'ansia è qualcosa che ci salva la vita che è collegata ovviamente alla paura perché la paura esempio di non avere la possibilità di sopravvivere ci fa lavorare in effetti sta lavorando tutto il mondo per diremmo trovare un rimedio per trovare un vaccino per trovare una medicina per far fronte a questa a questa situazione in effetti adesso siamo in quel in quel livello perché se ci dovessimo spostare nel lato più dell'angoscia è nel momento in cui sostanzialmente non abbiamo via d'uscita cioè abbiamo siamo di fronte a una situazione che non riusciamo più a governare non riusciamo più a gestire quindi ancora una volta questa questa paura è qualcosa che ci sta salvando la vita e ho fatto anche quest'altra affermazione proprio nel nel passato recente dicendo questo virus ha sostanzialmente spacciato perché è un virus che si sta agli occhi dei ricercatori ovviamente si sta mostrando e quindi nel momento in cui si mostra nel momento in cui non riesce più ad essere ovviamente nascosto noi riusciamo a neutralizzarlo in un certo senso questo è quello che sta passando anche in questi giorni in effetti sta passando il messaggio di ritornare ad avere fiducia in effetti chiudiamo un lockdown e tutti sostanzialmente ritornano o tendono a ritornare chiaramente al loro diciamo così al loro vissuto a tutto quello che facevano prima quindi passa la paura c'è ancora un po' d'ansia quest'ansia è collegata anche all'esempio prima che era della collega di Monica quindi quell'esempio è collegato anche appunto a quest'area a quest'ansia ecco quindi ancora una volta nel momento in cui ci troviamo di fronte e qui abbiamo un ricercatore appunto che è Kahneman ci troviamo di fronte a delle situazioni di crisi ancora una volta noi regrediamo e rispondiamo come dice lui rispondiamo di pancia il concetto di rispondere di pancia è che non riusciamo a razionalizzare l'emozione che ci sta arrivando e rispondiamo in maniera molto molto diretta quindi che cosa fare nel momento in cui ci troviamo di fronte a un cigno nero quindi questa potrebbe essere una domanda come possiamo reagire torniamo ancora alla riflessione iniziale quindi dobbiamo ripartire da noi dobbiamo cercare di ricentrare su di noi sostanzialmente quello che è il nostro vissuto quella che è le nostre le nostre riflessioni quindi come possiamo rispondere a una situazione del genere introduciamo un po' questo concetto che appunto è il concetto di stress abbiamo visto quanta pressione stiamo avendo e stiamo subendo in questa situazione quindi questo questo concetto che è stato espresso appunto da Sally ancora in quegli anni che ho riportato lì nella slide parla appunto di una sindrome generale di adattamento cioè sostanzialmente l'uomo si deve adattare a quello che gli sta succedendo attraverso un processo attraverso un processo che appunto è un processo che viene definito o di eustress o di distress diciamo il processo di eustress è quel processo positivo è quel processo che sostanzialmente che tutte le persone che sono qui collegate con noi oggi ricevono al mattino cioè quando ci svegliamo al mattino riceviamo una spinta quindi una una pressione uno stress per scendere dal letto per fare tutte le nostre azioni per per andare verso le nostre attività è chiaro che se questa pressione è talmente alta cioè le richieste che ci vengono fatte dal nostro diremmo dai nostri contesti dai nostri ambienti sono sono estremamente alti o benormi rispetto a quello che è la nostra possibilità di rispondere ecco che si crea una situazione di distress cioè quindi di rottura è un diciamo così un passaggio che blocca che rompe in un certo senso la nostra capacità di reazione rispetto a quello che stiamo vivendo quindi lo stress diventa rottura cioè quindi non è solo una pressione ma è qualcosa che fa rompere qualcosa all'interno di noi stessi e quindi questa ansia diventa ad esempio un'ansia acuta piuttosto che un attacco di panico piuttosto che nel momento in cui vedo che questa situazione non riesco a superarla non riesco a venirne a capo ecco che mi deprimo rispetto a quello che sto vivendo ecco in queste fasi diciamo c'è un percorso c'è tutta diremo non è che avvengono diremo in maniera simultanea o in maniera immediata ma c'è tutto un percorso per cui la persona inizia a far fatica ad affrontare delle situazioni in effetti questo lo vediamo spessissimo in questo momento in questo contesto che si è verificato perché dove esempio c'erano delle persone con delle grandi fatiche anche relazionali nel momento in cui vengono diciamo così bloccate in casa c'è una costruzione così alta cosa succede che la persona va in difficoltà e quindi si crea una situazione diciamo così di rottura diciamo psicologica nella persona anche perché appunto la persona essendo stata individuata come una persona diciamo nella sua interezza una persona come unità appunto psicosomatica dove abbiamo l'area diremo così diremo così diremo della parte più biologica quindi fisiologica insomma abbiamo l'area psicologica ma abbiamo anche l'area sociale quindi l'ambiente e tutti questi diremo sistemi sono interdipendenti e interagiscono uno con l'altro cioè quando qualcosa si modifica in un sistema modifica di conseguenza l'altro ma nel momento in cui l'altro si modifica torna chiaramente a influenzare e rimodifica il primo sistema ecco questo questo diciamo questo dinamismo questa diremo questo momento molto particolare che si viene a verificare potrebbe essere che questo momento si blocchi cioè sostanzialmente la persona non riesce più a interagire con uno o con parte di questi sistemi e in quel momento la persona non riesce più a far fronte a reagire rispetto e adesso lo vedremo a reagire rispetto a quelle che sono le richieste esterne dell'ambiente questa è l'evoluzione della sindrome che vi spiegavo diciamo così verbalmente sostanzialmente abbiamo una resistenza che è la prima parte dove c'è l'allarme ecco noi dove lavoriamo sostanzialmente dove lavoriamo anche con tutte le persone che vengono chiaramente a colloquio che vengono allo sportello lavoriamo in quell'area cioè che è l'area di allarme l'area gialla ci sono delle situazioni che poi possono arrivare al nostro sportello ma che sono già passate esempio oltre anche all'area della resistenza sono andate appunto nell'area della diciamo così della rottura ecco in quell'area ovviamente entrano in tutta quell'area grigia entrano altri tipi di servizi dove c'è chiaramente il servizio DSM dove ci sono le città di salute mentale dove c'è tutta l'area anche psichiatrica per riportare la persona più nella zona gialla per poi fare altre attività per poter chiaramente rimettere come definiamo noi rimettere in funzione rimettere in movimento rimettere in moto la persona rispetto al mondo che sta vivendo ok qui passiamo un po' questa è la diciamo correlata appunto che è un po' quella che ho già dato come definizione quindi sono appunto queste richieste di natura fisica psicologica e sociale che la persona non riesce più a diciamo così a far fronte a corrispondere ok vi vorrei proporre a questo punto un modello che utilizzo e che utilizziamo ovviamente anche per le varie riflessioni con le persone e che può essere qualcosa che già si utilizza come strumento parte di questo poi ci sarà una collega che si occuperà sempre della persona quindi sostanzialmente la collega Sabrina che si occuperà proprio di strumenti per diciamo così per far crescere anche e per potenziare gli strumenti che le persone possono avere quindi tutte le sue strategie di coping cioè tutte le strategie di fronteggiamento alle attività o alle situazioni faticose che si trova ad affrontare e diremo poi anche le sue risorse migliorare anche le risorse della persona quindi questo modello come funziona è un modello che appunto è adattato e tratto dal modello biopsicosociale dell'OMS dove abbiamo appunto l'area più bio l'area psicologica l'area sociale tutte queste aree funzionano sostanzialmente insieme contemporaneamente come dicevamo prima però diremo che ognuno di noi al mattino quando ci alziamo possiamo dire come sto nell'area bio cioè nell'area più fisiologica esempio se questa mattina sicuramente ho raffreddore non sono sicuramente al 6 quindi tra 0 e 10 ci muoviamo tra 0 e 10 6 è la sufficienza sicuramente possiamo mettere un 4 un 5 quindi siamo in maniera abbiamo qualche difficoltà fisiologica se poi passiamo chiaramente all'area psicologica ok però ho un po' di ansia anche rispetto a questa situazione perché chiaramente avere il raffreddore di questi tempi è un po' complicato e quindi sicuramente sono un po' giù sono un po' giù le persone parlano proprio in questo modo cioè ho il tono dell'umore basso sono un po' giù e quindi ho bisogno di tirarmi su ma in questo momento in cui succede questo tendenzialmente noi non ci esponiamo più cioè non andiamo più in relazione con gli altri quindi si preclude anche quest'area sociale ecco questo evidenzia proprio è proprio questo il meccanismo che sta che stiamo vivendo in questo momento in più se diremo aggiungiamo questo se una persona sta bene invece fisiologicamente biologicamente sta bene psicologicamente anche abbiamo però il lockdown cioè quindi non possiamo più entrare in relazione ecco che andiamo a 3 a 4 questo è stato già visto abbiamo appunto anche letteratura molto importante anche sviluppata proprio in questo ultimo periodo questa mancanza di essere diremo nell'area sociale riduce fortemente la capacità di reazione del soggetto quindi del sistema immunitario il sistema immunitario decade e di conseguenza apre le porte esempio alla malattia i virus oppure anche gli attacchi batterici in questo caso quindi portando poi in una situazione più complicata ancora nell'area psicologica perché chiaramente nel momento in cui la persona vede si rende conto che può star male o che sta male si può creare questa situazione di ansia più anche tono dell'umore basso quindi di depressione ok vorrei a fronte di questo proporre anche un tema di come poter eventualmente far fronte a questa situazione quindi uno dei temi nel momento in cui ci troviamo in questa situazione quindi lockdown quindi rimanere chiusi socialmente sostanzialmente dobbiamo rimanere tutti nelle nostre case ok parte tutta una serie di fenomeni quindi quelli di dire ok posso leggere posso studiare posso fare le ore piccole oppure oppure chiaramente anche mettermi in una condizione di scambiare esempio il giorno per la notte uno dei problemi è proprio questo quindi il passaggio che l'essere umano sia un diciamo così un animale diurno è fondamentale perché se noi fossimo un animale notturno il nostro sistema nervoso potrebbe funzionare in maniera completamente diversa invece funziona proprio diremo rispettando quelli che sono appunto questi ritmi che appunto sono chiamati ritmi circadiani che sono i ritmi veglia sonno quindi quello l'aspetto fondamentale è quello di mantenere diciamo così orientato questo ritmo e quindi allineato alle esigenze della persona quindi se ci svegliamo il punto uno potrebbe essere questo quindi riuscire a svegliarsi dalle cinque alle otto del mattino è fondamentale per mantenere esempio il il parasimpatico che poi spiegheremo cos'è attivo nel momento in cui deve essere attivo e spento nel momento in cui deve essere spento però questa diciamo questo è un elenco diremo di cose da fare per poter far fronte a questa situazione che ci troviamo quindi sveglia tra le cinque e le otto puoi andare alla luce aprire le finestre mettere dell'acqua fredda piuttosto che diremo così del freddo sul nostro corpo per dire adesso ci stiamo svegliando utilizzare il respiro quindi questa è una sequenza che tendenzialmente utilizziamo sempre anche con anche con gli atleti quindi respirare inspirare cinque fermarsi per due poi espirare cinque questo per un ciclo di un minuto almeno per un minuto puoi fare dieci minuti di attività metabolica adesso non so con i tempi dovremmo esserci e poi a fare una colazione abbondante pranzo normale e cena leggera ok questi passaggi sono quelli che ci aiutano a sostenere il nostro fisico a sostenerlo anche di fronte è una situazione che è sostanzialmente molto complicata molto difficile come quella in cui stiamo vivendo oggi e a fronte di questo poi un altro consiglio che assolutamente diamo cercare di spostare al mattino ad esempio le cose faticose da fare le cose che a noi danno più fastidio diciamo sono quelle che ci fanno fare più fatica nel mettersi in azione a farle farle al mattino invece che al pomeriggio questo chiaramente in questa situazione ovviamente in questa situazione di lockdown ti ringrazio Roberto e giro la palla sicuramente a chi abbia piacere di magari fare un approfondimento o magari chiedere di utilizzare appunto questo tempo magari per fare qualche riflessione quello che appunto porto a casa da te è una disponibilità cioè uno spunto a essere consapevoli di quello che ci sta succedendo in questo contesto particolare avere delle antenne per cogliere dove siamo a livello fisico a livello psicologico e a livello appunto di dinamiche sociali per in qualche modo partire da un momento di consapevolezza su cui puoi agire questo è quello che mi sembra sia un misaggio forte di oggi Sì, assolutamente sì cioè questa ricentratura rispetto a noi stessi per poi poter andare chiaramente negli altri sistemi dove abbiamo la famiglia dove abbiamo l'organizzazione sicuramente se noi abbiamo più strumenti per gestire noi stessi è fondamentale per poter fare diremmo così migliorare per poter costruire o co-costruire nelle altre costruire quindi insieme negli altri sistemi nelle altre dimensioni una fase ma anche una fase di diremmo di rinnovamento in un certo senso perché riconnettere questi mondi ad oggi è diremmo uno dei passaggi più complicati che stiamo vedendo e stiamo anche diremmo così supportando le persone a fare oggi in questo momento proprio in questi in questa settimana dove abbiamo avuto la scorsa settimana un po' che si è ripartiti ma porto già anche proprio questo esempio abbiamo delle situazioni in cui delle persone scalpitano cioè proprio non vedono l'ora di ripartire non vedono l'ora di mettersi in azione e ho anche altre situazioni molto complicate nelle quali le persone non vogliono più uscire da questa io mi trovo troppo bene in questa situazione dottore io sto troppo bene così non ho più voglia di mettermi nella condizione di correre in questo mondo quindi ci troviamo su questa su questa dimensione su questo diciamo così anche continuo ma anche su questa dicotomia su questa divisione che riguarda proprio la persona per cui rimettere insieme questi pezzi e riconnetterli per fare in modo che la persona sia ancora attiva ma anche proattiva cioè mettere in campo le proprie risorse le proprie energie per ricostruire ciò che sostanzialmente abbiamo perso diremo che tutti questi aspetti li vedremo sicuramente nel tempo quindi nei prossimi due mesi due tre mesi abbiamo già previsto una situazione sicuramente così complicata tra virgolette insomma con questo ad opera questo termine complessa insomma da ricostruire in effetti è una degli altri passaggi che diciamo spesso è che una via di uscita c'è sempre perché nel momento in cui la persona si trova si trova nella situazione di non vedere via di uscita di non avere altre possibilità il problema è proprio questo quello di ritrovare assieme la possibilità di mettere in gioco di mettere in campo delle alternative delle possibili alternative quindi definirei proprio questo quindi restituire il potere alle persone di poter appunto essere protagonisti di quello che stiamo vivendo in effetti un'altra delle affermazioni che faccio e vabbè ve la porto perché è una cosa che appunto accade anche quotidianamente in questi giorni mi accade in sostanza è questa frase che è stata usata quindi questo andrà tutto bene direi che c'è un errore cioè abbiamo c'è stato commesso un errore in termini comunicativi ma anche in termini linguistici direi che non andrà Roberto se mi permetti qualcuno chiedeva se e cosa si poteva ricavare dall'esercizio iniziale che avevi fatto fare sulla descrizione della terza persona quindi se dai un rilancio per leggerlo ora o leggerlo per le prossime volte sì direi che sì era l'ultima diciamo l'ultima delle riflessioni che volevo portare proprio in questo senso quindi siccome siamo abbiamo riflettuto molto su di noi e rispetto a quella descrizione che abbiamo che abbiamo messo messo sul nero su bianco sostanzialmente all'inizio se io vi dicessi rispetto a quella descrizione in questo momento riscriveresti la stessa cosa o qualcosa di diverso o descriveresti quella stessa persona in maniera diversa ecco questa è un po' l'idea quindi se la persona si si confronta con quello che ha scritto all'inizio diciamo così con la consegna che c'è stata all'inizio è qualcosa che vorrebbe mantenere o c'è qualcosa di diverso che vuol mettere che vuol che vuol aggiungere o che vuol togliere anche non è detto sta a noi poter far andare bene le cose diciamo che l'aspetto che nell'errore diciamo semantico in quella frase l'andrà tutto bene è qualcosa di illusorio è qualcosa che sì diremo mi sa un po' come da una situazione da nel momento in cui mi viene questo adesso in questo momento da film americano quindi anche chi sicuramente se io dico full metal jacket cioè sei lì che sei sostanzialmente sbrandellato completamente non ti preoccupare vedrai che andrà tutto bene ok dopo 15 secondi sei morto cioè quindi dico l'azione dovrebbe essere in questo senso cioè potrà andare tutto bene cioè dobbiamo restituire il nostro potere a noi stessi per prendere in mano diremole diciamo così per prendere in mano la situazione ecco questo è fondamentale anche perché molto di quello che percepisco nelle richieste che abbiamo in questo momento le persone sono lì come in attesa di qualcosa qualcosa che arrivi non si sa bene da dove e quindi questo è un po' è un po' una secondo me è un po' collegato a questo cioè quindi siccome le cose dovranno funzionare o comunque andranno in un certo modo ok ma non è detto dico io cioè non è e quindi che cosa puoi fare tu o che cosa possiamo fare noi cioè quindi sicuramente ad esempio uno dei passaggi si riconduce alla riflessione che facevo all'inizio quindi l'aspetto razionale è fondamentale nel senso che devo esempio usare le precauzioni cioè è inutile che io dica ci sono distanziamento sociale mascherina lavarsi le mani solo questi tre diciamo così comportamenti sono fondamentali perché ci aiutano a ridurre del 94% il rischio di disagio questo è un dato oggettivo che diremo così e lo possiamo utilizzare quindi solo con questi tre comportamenti quindi mi aspetto che le persone prendano in mano questo e ho fatto un esempio molto allora giusto giusto perché Enzo chiede quale poteva essere la frase io suggerisco una frase già dire ce la possiamo fare sì è un po' diverso perché ci porta dentro una responsabilità e una visione non va bene nonostante noi andrà bene se ci impegniamo ecco e quello è un po' il messaggio che penso Roberto voglia dire e non è l'unico a darla in quella in quella chiave cioè non lasciarlo in ottica passiva ma prenderci una responsabilità in questo credo sia quella un po' chiave chi vuole magari attivare due considerazioni vedo Luisa un po' attiva non so se voleva dire qualcosa a lei no ti vedevo così attiva o qualcun altro se gli stimoli che abbiamo ricevuto ci hanno portato magari a qualche a qualche commento ecco come dice qualcuno andrà tutto bene se ne saremo capaci sì quindi sì all'interno della frase Luca c'è proprio una contraddizione cioè sostanzialmente io vedo il dato che cioè il numero di morti che sale ci danno tutto un feedback di un certo tipo mi trovo di fronte a questa situazione e continuano a dirmi che andrà tutto bene cioè ma che cosa mi state dicendo cioè quindi questo è anche l'area più razionale è chiaro che ci può confortare in un certo senso sì ma è illusoria cioè vivere nell'illusione significa smettere di vivere la vera la vera sfida che penso tu voglia porci sul tavolo oggi è essere capaci di un po' di ascolto di noi stessi poi parleremo dell'ascolto degli altri sia in famiglia che in azienda ma oggi il focus è quanto sono in grado anche di mappare un pochettino sui tre assi quel disegno lì quel modello lì per me è prezioso quindi penso di ripeterlo un po' per tutti quanto bene sto da 0 a 10 sullo scala fisica sulla scala psicologica e su quella chiamiamola relazionale sociale relazionale sociale queste tre dimensioni mi permettono di mappare un pochettino e non cadere nel meccanismo di nuovo un po' passivo oddio oddio ma come hai detto tu ritmo circadiano piuttosto che altro vedere come si può fare movimento in casa vedi la differenza tra chi come me si è un po' adagiato e il movimento fisico non l'ha fatto in questi due mesi e chi invece qualcuno se ne è accorto e chi invece probabilmente è riuscito nonostante dei limiti a trovare degli spazi di manovra di soluzione sui tre assi quindi credo che questo mi riconduco proprio all'allenamento Luca mi trovi assolutamente diremmo così allineato a quello che tu dici perché è proprio una questione di allenamento cioè come esempio anche tua figlia ha recuperato tutte le sue abilità capacità strategie per far fronte a una situazione che era diciamo così assolutamente far fronte al cigno nero perché per lei lo è stato ancora di più essendo un atleta ma anche per tutti gli atleti che vedo cioè perché nel senso non abbiamo accennato a quest'area però mi occupo anche della psicologia dello sport per situazioni diciamo di un certo tipo ma è così cioè chi riesce a cadere rialzarsi e riprendere da quella caduta energia per far fronte alle nuove sfide e ottenere i risultati sono persone chiaramente che hanno fatto un lavoro su di sé e lo stanno continuando a fare perché è solo attraverso quell'allenamento che riusciamo a mettere in atto poi un'azione proprio operativa su quello che dicevi tu è che guarda io con delle persone io ho a che fare appunto anche con gli anziani con le persone un po' più in là con l'età gli ho detto fate delle cose molto semplici l'attività fisica che va fatta per un minuto se tu ti siedi per terra e ti rialzi per un minuto ok e poi fai un minuto di riposo quello è l'attività fisica ok se tu sali e scendi dieci scalini piuttosto che tre scalini in salita per un minuto in maniera costante cioè non tre scalini e fermarti ma per un minuto fai quell'azione quella è un'attività fisica chi riesce esempio delle persone che sto seguendo che sono in là con l'età ma ce la fanno si stendono supini e si stendono proni lo fanno per un minuto e poi si fermano per un minuto quell'attività fisica di dieci minuti che è un minuto di azione un minuto di sospensione cioè un minuto di riposo un minuto di azione un minuto sono dieci minuti al giorno dieci minuti al giorno sono quelli che io ho fatto ridurre del 60% l'utilizzo di beta bloccanti esempio ok o comunque sì per il problema della dell'aritmia cardiaca piuttosto che dell'aumento del battito cardiaco quindi sono applicazioni molto semplici delle volte senza però che noi riusciamo a metterle in atto se stiamo su di noi se impariamo ad ascoltarci quindi perdonami soprattutto se abbiamo dei ruoli di responsabilità in famiglia in impresa siamo sotto stress e questo è un periodo appunto in cui siamo tutti un po' particolarmente presi la capacità di regolarci cioè di ascoltarci prima e di regolarci dal cibo che si mangia come diceva Monica in abbondanza al rischio del moto che non è in movimento al rischio di una dinamica di relazioni che magari soffriamo in questo momento ecco dobbiamo prenderci cura di noi prima di tutto perché il messaggio forte che stai lanciando è quello dell'aereo che dico sempre anch'io in formazione quando c'è la mancanza di ossigeno prima mettiti la mascherina dai le vite che servono a te per poter essere poi nel tuo contesto capace di portare aiuto quindi tutti noi che abbiamo dei ruoli di responsabilità dobbiamo prima di tutto prenderci la responsabilità di gestire la nostra efficacia per essere lucidi a sufficienza e governare quello che possiamo fare nelle prese di decisione in famiglia in impresa credo sia questa questa la chiave quindi credo che anche qui ci sia da conoscere se stessi come diceva il famoso oracolo di Delphi da conoscere se stessi per dopo sapere anche come trovare le nostre risorse per agire efficacemente in questo contesto ognuno di noi a livelli di stress molto diversi siamo in contesti molto diversi ogni realtà aziendale familiare personale in cui siamo ci espone a dinamiche diverse ma c'è anche una diversità personale per cui io stesso reagirei diversamente se fossi magari nella posizione di un'altra persona cioè chiedo scusa la stessa situazione di stress può essere vissuta diversamente da due persone con due caratteristiche diverse quello che credo sia utile per oggi appunto come stimolo è un tornando a quei tre livelli fare una riflessione su dove siamo noi oggi cosa stiamo facendo per gestirlo quello stress e poi cosa attiviamo nelle dinamiche dei contesti in cui siamo lavorativi e relazionali credo sia questa la chiave non so Roberto se ti va bene rimando anche per la prossima puntata di mercoledì assolutamente sì perché chiaramente come dicevamo la percezione è un atto soggettivo e quindi dipende molto dalle nostre caratteristiche e dipende molto da come noi siamo in quel momento cioè quali sono le situazioni che stiamo vivendo quali sono i contesti in cui siamo inseriti gli ambienti a cui dobbiamo rispondere rispetto chiaramente alla caratteristica e a quelle strategie che noi siamo capaci di mettere in azione ok che vedremo anche la prossima volta in questo incontro in questo incontro Roberto ci ha messo a disposizione le sue esperienze e la sua competenza per capire un po' meglio cosa vuol dire vivere in un contesto di stress imparare a riconoscerlo e imparare a gestirlo avremo modo di continuare questo percorso relativo allo stress alla gestione dello stress nell'impresa di famiglia toccando proprio le due diverse dimensioni quella familiare prima nel prossimo incontro e quella aziendale nell'incontro successivo se volete potete continuare ad approfondire i contenuti e strumenti che mettiamo a disposizione delle imprese di famiglia andando a visitare il nostro sito www.familybusinessunit.com